Cari telespettatori della Tena TV, ci troviamo in compagnia del sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Siamo qui per fare il punto sulla situazione coronavirus. Anche il nostro comune ovviamente ha ricepito quelle che erano le direttive ministeriali e regionali per quello che riguarda appunto la chiusura delle scuole, la sospensione delle attività pubbliche che coinvolgano un numero considerevole di persone. Allora col sindaco cerchiamo di fare un po' il punto partendo dal dato che ci rassicura, cioè dal fatto che nel nostro comune non ci sono casi di coronavirus. Giusto sindaco? Sì, giusto, ma non solo nel nostro comune, in tutta la nostra provincia c'è l'assenza virale per ora. E proprio approfittando di questa assenza virale l'Ulss 2 si è attivata per predisporre una macchina anche complessa, supportata da considerazioni di ordine epidemiologico, atta a contrastare la diffusione del virus qualora arrivasse. Alla fin fine sono 30 ore ormai che siamo sul pezzo per mettere a punto i meccanismi, alle volte con provvedimenti restrittivi, alle volte che sembrano largheggiare, ma che sono frutto di aggiustamenti continui in modo tale ad arrivare poi a un equilibrio tale che anche dovesse arrivare il virus e quindi creare un problema reale, si possano garantire trasporti, lavoro, approvisionamenti e nel contempo aver le energie e i mezzi necessari già schierati per contrastare efficacemente il fenomeno. Ecco, quindi possiamo dire che la macchina è partita non appena appunto ci sono stati i casi di cui tutti conosciamo appunto voi Uganeo e tutta quell'area anche parte del veneziano appunto e qui quindi la macchina è partita però appunto ci sono tutte queste direttive che fanno sì che la gente per una settimana possa stare il più possibile diciamo dentro le proprie case continuando però con le attività economiche ovviamente. Sì, naturalmente continuando con le attività economiche sapendo che tutto il meccanismo è avviato ma preventivamente non è che dobbiamo parare nessun pericolo attualmente, è bene che questo si faccia in pace proprio per prepararsi la guerra eventualmente. Quindi tutti tranquilli e cercare di comportarsi come sono le indicazioni. Infatti ieri alle 14 ci siamo trovati tutti noi sindaci, eravamo veramente tutti a Treviso, tutti attentamente schierati per apprendere quelle che erano le nozioni base, i comportamenti base, quello di non frequentare locali affollati e invece ieri abbiamo visto che la gente magari chi diceva carnevale sì, carnevale no, erano tutti assiepati o in pasticceria o al bar. Attenzione perché non è che ciascuno di noi sia esente della malattia, ciascuno per sé deve stare un po' attento a non frequentare luoghi se troppo popolati, lavarsi frequentemente le mani, non toccarsi occhi, bocche, mucose, disinfettare i posti dove altre persone possono aver lasciato dei segni della loro presenza diciamo così e quindi norme igieniche generali sapendo che il virus si diffonde a non gran distanza dalle persone e quindi non sono grossi sforzi da fare diciamo così. È chiaro che i supermercati qualora dovesse arrivare il virus o i mercati saranno aperti, è impossibile non approvvigionarsi quindi a fronte di certi meccanismi non controllabili appunto come quello dell'approvvigionamento ci sono altri che si possono evitare tipo le partite di calcio, tipo i teatri per un po' di tempo magari si rimarrà senza il cinema, appunto però per evitare questi luoghi dove il pericolo potrebbe essere maggiore. Comunque calmi che per adesso stiamo affinando, pochi minuti fa sono arrivate le ultime tecniche specifiche da parte della regione che permette appunto alle palestre, ai campi di calcio di essere frequentati per gli allenamenti ma non dal pubblico, non da grossi assembramenti e quindi la vita continua normale in queste giornate che sono ripeto di prova è un prepararsi nel caso dovesse esserci il problema, null'altro, tranquilli. Ecco ovviamente tanti sono bravi a fare polemiche in questi casi, noi lasciamo perdere, questa mattina al mercato settimanale c'era poca gente obiettivamente, c'era qualche ambulante insomma che si lamentava e alcuni esercenti al momento si stanno lamentando, il sindaco cosa dice? Dico che ieri in prima battuta quando ci siamo trovati a treviso le disposizioni erano chiudere i mercati, però questo era basato su un ragionamento generale, poi man mano che sono passate le ore ci si è anche resi conto che gli approvvigionamenti bisogna farli e quindi supermercati aperti, bene il mercato all'aperto è già più salubre di un posto chiuso e quindi si è deciso nelle ultime ore serali, perché è cominciato alle due di ieri pomeriggio, finito alle due di stamattina, gli scambi di pareri perché alla fin fine dopo tutti ragionano, però gli epidemiologi veri, quelli che sanno valutare queste cose qua, sono pochi, sono collocati al centro, a treviso, sono in collegamento con la regione, col ministero e noi dobbiamo far altro che seguire le loro disposizioni che hanno tutti i dati di quello che è successo fino adesso. Fidiamoci alla fin fine e poi lavoriamo sul sicuro perché il virus non c'è. Il comune di Vittorio Veneto ovviamente ha un filo diretto appunto con l'Ulss2 e Marca Trevigiana con tutti i soggetti quindi noi ci mettiamo anche a disposizione per eventuali comunicazioni se dovesse essercene bisogno e per quanto riguarda gli uffici comunali sono aperti ma c'è una specifica? C'era una specifica, cioè i servizi essenziali continuano a lavorare come prima. I non essenziali era stato dato a disposizione che lavorassero però su prenotazione in modo tale di evitare le code, in modo tale di evitare l'assemblamento delle persone. Comunque il tutto si esaurirà entro il primo di marzo. Non si esaurirà se in queste giornate dovesse arrivare il virus chiaramente. Queste giornate comunque sono importanti e che la prova venga fatta adesso perché qui pochi casi, due a Venezia e i 17 di Vo in provincia di Padova sono avvenuti in poche ore e quindi chi poteva sapere nelle ore successive se il fenomeno sarebbe recresciuto o no. E quindi approfittiamo di questo momento di pace per mettere a frutto tutte le macchine, tutte le persone, tutte le disposizioni in modo da essere pronti. Ma al momento, ripeto, il virus qua in provincia di Treviso sembra non esserci, non c'è. Ripetiamo, noi vi stiamo parlando nella serata di lunedì, quindi veniamo, come diceva il Sindaco, poc'anzi da un weekend molto intenso, frenetico, tanti tavoli di lavoro a cui appunto anche il Sindaco ha partecipato, tutto questo per appunto garantire la salute dei cittadini. Ovviamente, Sindaco, se ci sono... Dobbiamo anche tener conto del comportamento medio delle persone, cioè se domenica tutti i carnevali in provincia di Treviso fossero stati impediti avremmo avuto, non so, comportamenti anomali tipo accaparamenti, comportamenti assolutamente inutili e avrebbero portato dello spavento inutilmente nella popolazione. Invece questo comportamento ha potuto dare il tempo di trasmettere questi messaggi, di spiegare cosa sta avvenendo, di spiegare come la macchina lentamente sta prendendo forma e speriamo che per il primo non ci siano stati casi veri di presenza di virus e avremo una macchina sempre là pronta e già definita. A Vittorio Veneto è previsto il Consiglio Comunale nella serata di venerdì 28 che sarà a porte chiuse ma ci sarà il collegamento televisivo, quindi i nostri telespettatori potranno seguire i lavori del Consiglio Comunale. Sindaco, in chiusura il suo messaggio ai cittadini vittoriesi che la stanno vedendo, qual è? Quello di mantenere la calma, no? Guardi, io sono un veterinario e ero abituato a queste cose perché per molte decine se non centinaia di volte noi abbiamo avuto fenomeni di focolai anche importanti sui animali, sapevamo come fare, questi meccanismi di trasmissione di dati dal centro alla periferia funzionavano come orologi e tutte le volte siamo sempre riusciti a contenere i problemi e annullare i danni. Questa volta è la prima volta che mi capita di gestire dal punto di vista di malattia umana il problema, i meccanismi fondamentalmente sono gli stessi, so che epidemiologi di valore lavorano per la nostra regione, tanto per dire la regione da tempo che lavora, anche a zero casi in tutta la regione, infatti sono pronti anche di materiali cartacci, audiovisivi, nel caso ci fosse problema sono già stati prodotti, quindi c'è gente che pensa per noi, non improvvisiamoci noi epidemiologi, cerchiamo di essere univoci nei comportamenti e soprattutto l'agitazione non porta da nessuna parte. Calma e gesso, no? Come si suol dire. Certamente e sempre la premura di informarsi dai canali ufficiali ovviamente e non basarsi magari a qualche voce dei social. Sì, infatti le feghe già giravano, quattro casi a Conegliano, due a Castelfranco, purtroppo c'è di questa gente che comunica così. Grazie Sindaco per questo aggiornamento, grazie a tutti voi per averci seguito, se dovesse esserci la necessità vi terremo aggiornati su questo caso coronavirus. Grazie a tutti.